Precarietà per il futuro e forte preoccupazione è il quadro che emerge dal primo studio sui mutamenti della qualità della vita in Italia a seguito dell'emergenza coronavirus condotto da un gruppo di studiosi dell'Università di Bologna e dell'Università degli Studi di Palermo. La reclusione forzata causata dalla pandemia, oltre ad aver gravato dal punto di vista mentale, ha messo a dura prova anche l'organismo contribuendo a far aumentare i chili sulla bilancia. Come tornare allora in forma dopo tutte le restrizioni e abbandonare definitivamente il grembiule di Masterchef, sicuramente curando dieta e movimento, suggeriscono i nutrizionisti, approfittare delle belle giornate per muoversi, passeggiate, bicicletta, jogging e soprattutto spostarsi il più possibile a piedi. Per quanto riguarda la dieta invece non dobbiamo cercare nulla di troppo particolare. Mi sento di consigliare la dieta mediterranea che prevede i 5 pasti al giorno, quindi iniziare con una colazione, lo spuntino di mattina, un pranzo, lo spuntino di pomeriggio e una cena. E soprattutto introdurre una buona porzione di frutta di stagione, di verdura di stagione, e soprattutto colorata perché in questo modo andiamo ad aumentare quelle che sono le scorte un po' di vitamina C, di vitamina A, la vitamina E, i sali minerali, gli antiossidanti di cui abbiamo bisogno. La dieta mediterranea per tornare in forma non invece rimedi fai da te, proposti su internet. Bisogna rivolgersi a un professionista, quindi consiglio un biologo nutrizionista che poi attraverso un'anamnesi e un esame, in particolare l'esame impedenziometrico, si va a valutare la composizione corporea della persona, quindi in particolare la massa grassa, la percentuale di massa muscolare, l'idratazione corporea, il metabolismo basale, per cui le calorie che vanno ad essere poi utilizzate per costruire un piano calorico personalizzato. Attenzione infine a Pasqua e Pasquetta, una a due giorni super calorica. Il giorno di Pasqua facciamo un brodo con una gallina bella vecchietta, con i tagliolini fatti in casa, poi facciamo l'agnello con tanti contorni misti, facciamo la solida frittata che si usa a Pasqua. Non è il giorno di Pasqua a fare la differenza, ma è come ci comportiamo nei giorni precedenti, per cui il giorno di Pasqua il mio consiglio è quello di non eccedere troppo con piatti troppo elaborati e evitare di mangiare troppo cioccolato e colombe.